Bene, cari amiche, cari amici, benvenuti a quello che è l'ultimo webinar della stagione prima delle vacanze estive e oggi abbiamo il piacere di avere con noi un collega, ma un amico anche, il professor Claudio Paolucci e insieme a Fausto Caruana e Andrea Valle presenteremo la sua ultima fatica, Cognitive Semiotics. Vi presento rapidamente l'autore e i commentatori per poi lasciare integralmente lo spazio a loro. Claudio Paolucci è professore coordinario di semiotica e filosofia del linguaggio all'Università di Bologna, dove coordina anche il dottorato di ricerca in Philosophy, Science, Cognition and Semiotics, è coordinatore scientifico del Centro Internazionale di Studi Umanistici Umberto Eco, nonché direttore dell'International Center for Inactivism and Cognitive Semiotics, una fucina che ha già organizzato molti eventi internazionali molto interessanti e quindi vi invito a visitare la loro pagina web. Allievo di Umberto Eco, a cui ha dedicato un popolare libro, ha pubblicato quattro monografie, oltre cento articoli in riviste scientifiche internazionali ed è il principal investigator di quattro progetti finanziati dalla comunità europea. I suoi ultimi due libri sono Persona, soggettività nel linguaggio e semiotica dell'enunciazione, Bonpiani 2020 e il volume che presentiamo oggi pomeriggio, Cognitive Semiotics, Integrating Science, Minds, Meaning and Cognition, Springer 2021. Libro che verrà commentato da Fausto Caruana e Andrea Valle. Fausto Caruana è neuroscienzietto cognitivo presso l'Istituto di Neuroscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche a Parma e insegna Neuroscience of Language presso l'Università della nostra città di Parma. Si occupa da sempre di neuroscienze sociali cognitive e affettive, è autore di più di 60 articoli scientifici sui meccanismi neurali e psicologici alla base delle emozioni, dell'empatia, dei neuroni specchio e della cognizione motoria, è autore di Habits, Pragmatist Approaches from Cognitive Science, Neuroscience and Social Theory che ha coeditato insieme a Italo Testa, Cambridge University Press 2020, come funzionano le emozioni da Darwin alle neuroscienze scritto con Marco Viola, il mulino 2018, il cervello in azione con Anna Borghi ancora per il mulino 2016 e tutto da solo il cervello empatico dalla teoria della mente al meccanismo mirror a Shet 2019. Andrea Valle è professore associato di cinema, fotografia e televisione all'Università di Torino dove dirige il CIRMA, Centro Interdipartimentale di Ricerca su Multimedia e Audiovisivo e il Master in Progettazione e Management dei Multimedia per la Comunicazione. Il suo lavoro di ricerca si sviluppa principalmente negli ambiti della semiottica, della teoria, dell'audiovisione e del sound e music computing. Io ho terminato il mio ruolo di presentatore e lasciamo tutto lo schermo a Claudio che ci presenterà le linee portanti del suo libro. Claudio, a questo punto, the floor is yours, come si dice. Sì, innanzitutto ringrazio tutti per l'invito, è molto bello essere qua tra amici, insomma, di veramente alcuni di vecchissima data, con Andrea abbiamo fatto il dottorato insieme, quindi alcune delle cose che dirò all'inizio, Andrea se le ricorderà probabilmente perché era lì e poi con Fausto ho scritto anche insieme, insomma, e con Vittorio appunto, Vittorio ricordava prima l'esperienza del centro su un attivismo semiottica cognitiva e con tanti amici, insomma, negli ultimi anni ci sono stati tanti progetti comuni e tante occasioni, insomma, quindi è davvero per me una sede perfetta un po' per parlare in amicizia, di un lavoro a cui tengo molto e che ha, secondo me, una doppia anima, se volete un'anima interna e un'anima esterna. È sempre un po' imbarazzante parlare di se stessi, ma giusto per dare un po' il sapore di quello che era il progetto. Quando io studiavo, insomma, Bologna, la scala metà degli anni 90, si girava questa dispensa nei corsi di Eco, che era poi quello che diventò Kant e Dorito Rinco, dove Eco studiava autori che per lui in quegli anni erano fondamentali per la semiotica e poi dopo il mondo è andato avanti e questi autori erano George Leikoff, e lo cito con grande piacere anche perché ha scritto, per esempio, insieme a Vittorio, ma erano Langecker, Tolmi, erano Edelman, tutta una serie di autori centrali. E con quegli anni fonda istituzionalmente una sede, tra le tante cose che faceva, all'Università di San Marino, in collaborazione con Bologna, che si chiamava Centro Internazionale di Studi Semiotici e Cognitivi, dove sono passati tutti, la Fodor a Hofstet, tantissime persone in quegli anni si occupavano di quei temi. E poi appunto nel 97 esce questo libro centrale per la tradizione semiotica, che è Cantano di Torinco, e nello stesso anno esce un altro libro che adesso noi chiameremo di semiotica cognitiva, e in realtà questo era un libro di semiotica to core, da un certo punto di vista, ma su questo magari ritorno un attimo, che è Significato ed esperienza di Patrizia Violi. Quindi in quegli anni questi due libri in qualche modo fondano quello che io ora chiamo semiotica cognitiva, perché appunto poi sono successe molte cose fuori, qui dopo poi parleremo della dimensione esterna, fuori dalla semiotica, che fondano diciamo un modo propriamente semiotico di occuparsi, se volete, ecco dice della domanda fondamentale su come conosciamo il mondo, e quindi il rapporto tra percezione e linguaggio, il rapporto tra linguaggio e riferimento, tra conoscenza sensibile, emozione e conoscenza intellegibile, ricordo e Cantano di Torinco, tra significato e comprensione, tra semantica e appunto teoria della conoscenza. In quegli anni, erano gli anni in cui la linguistica manteneva una sua costitutiva centralità, e la cosetta linguistica cognitiva nel panorama delle scienze cognitive, erano i primi anni dell'embodied cognition, la linguistica si adeguava da un certo punto di vista a questo nuovo stile di ricerca. Quando il libro esce, quando esce tanto l'elettorismo, ma quando anche esce il significato di esperienza, Andrea, forse sono molto curioso di sapere che cosa pensa lui, come ha vissuto poi lui quelle cose, per noi era a suo modo elettrizzante, non perché necessariamente il libro ci sembrasse un enorme passo avanti rispetto a quello che per esempio Umberto aveva fatto prima, rispetto a quello che Eco aveva fatto prima, magari alcuni di noi pensavano che per esempio il trattato di semiotica generale, e Andrea ne è un esempio, rappresentasse ancora un picco, ma quello che ci interessava erano quei problemi, erano esattamente quei temi e quei problemi, quello per noi era centrale, infatti le persone che facevano il dottorato a Bologna in quegli anni, che adesso sono professori associati ordinari, penso a Piero Polidoro, a Francesco Villalofaro, che appunto a Francesco è a Torino, dove è Andrea, ma a Piero è a Roma, tutti noi ci siamo sempre interessati di quella che io chiamo semiotica cognitiva, ma è solo un'etichetta in fondo, cioè è l'idea di riprendere i temi che erano al centro di Cantolori Torinco. Che cosa succede? Succede una cosa strana, strettamente questo, sto parlando di dimensioni interna, quindi questa prima parte è più per i semiotici, insomma, perché dopo lavoro anche più per appunto le cosiddette scienze cognitive, che per me sono ancora quella impresa interdisciplinare che tiene insieme la psicologia, le neuroscienze, l'antropologia, la filosofia e la linguistica, io sono un linguista, sono un semiotico, i semiotici sono dei linguisti che si occupano anche di linguaggi non verbali, io ho sempre molto curato con grande forza, secondo me con grande attenzione, perché ci tengo molto al rapporto con la linguistica, quando invece magari un certo modo di fare semiotica ha più costruito relazioni con la sociologia dei consumi, la sociologia della comunicazione, dei processi culturali, mentre secondo me il rapporto con la linguistica è sempre rimasto centrale. Quindi in qualche modo da un lato Cognitive Semiotics è un libro che riprende in mano i temi di Cantorio Ritorinco e di significato e di esperienza, ed è allo stesso tempo un libro di una persona che è un semiologo, cioè quindi una persona che si sente a tutti gli effetti parte della grande sfida interdisciplinare delle scienze cognitive, sappiamo tutti, abbiamo letto tutti, Fausto ci aveva scritto un bellissimo articolo su quello studio di Nunez, che mostrava come in fondo le scienze cognitive si fossero riterritorializzate sulla psicologia, che quindi l'80% dei peperi delle ricerche che venivano pubblicate sotto l'etichetta di scienze cognitive in realtà era psicologia. Credo che il Neuroscience and Humanities Lab, ma anche quello che facciamo noi con il Centro Suenativismo e Semiotica Cognitiva, e tendenzialmente tutte le nostre ricerche, quelle di Andrea, quelle di Fausto, molto evidentemente e soprattutto quelle di Vittorio, che da sempre lavora sulla frontiera tra le nostre discipline, siano in qualche modo invece eredi di un modo di fare scienze cognitive che fa dell'interdisciplinarità e del rapporto tra appunto le infantis, l'antropologia, la linguistica, quindi la semiotica e la filosofia e la psicologia e neuroscienze, fa la cifra, se volete, stilistica e di ricerca del proprio sforzo, del proprio lavoro intellettuale. E quindi che cosa succede? Succedono due cose dopo il 97. Una è molto interessante, che tendenzialmente, sebbene Cattolo Ritorino, che si è grande di esperienza, sono due libri di enorme successo, vengono ovviamente tradotti in inglese, in molte lingue, eccetera, eccetera, però tendenzialmente la semiotica italiana non se ne occupa. Si mette di occuparsi, da un certo punto di vista. Prende un'altra strada. Negli ultimi 25 anni, dei temi di cui ho parlato prima, che sono poi i temi del libro, i semiotici tendenzialmente non si interessano. Ecco, quello che io volevo fare con Cognitive Semiotics era invece riprendere i temi di Cattolo Ritorino, di significato dell'esperienza e vedere come si potevano trattare semioticamente nel 2021, l'anno scorso, quando il libro è uscito, e quindi aggiornarli a quello che era successo, in qualche modo, dentro il panorama delle scienze cognitive. E che cosa è successo? Se un libro come Canto Ritorinco, come significato di esperienza, ha, come dicevo prima, la linguistica cognitiva, quindi in qualche modo una disciplina, se vogliamo, cugina, come interlocutore privilegiato, di un approccio semiotico che era rimasto ancora molto centrale, se volete, questi ultimi 25 anni, da un lato, la semiotica ha un po' perso, centralità culturale, ma questa è una cosa che succede abbastanza regolarmente con le discipline che hanno una loro temporalità, una loro evoluzione, ma quello che succede è che proprio dentro quella cosa che Eco avrebbe chiamato scienze cognitive nel 97, sono successe veramente tantissime cose. Non è il mio compito, magari lo fa Fausto, se lo vuole, o Vittorio, sono le persone più indicate, ma appunto, prima, pochi anni dopo, la grande esplosione delle neuroscienze, il contributo italiano di Vittorio, il gruppo di Parma, e non solo, diventa centrale, cioè qualche modo, noi sappiamo oggi, 25 anni dopo, un'enorme quantità di cose sul cervello, sul corpo, quindi appunto su una body condition, che Eco, quando scriveva Cantorito Rico, non poteva sapere, e dall'altro lato, in qualche modo, le scelte cognitive diventano sempre più, se volete, attraversate da una tensione verso alcune idee che vengono dalle humanities, per questo particolare modo, la fenomenologia, il pragmatismo, eccetera, eccetera, ma non solo, basta solo guardare il lavoro di Vittorio e il lavoro di Fausto per vedere in qualche modo come due neuroscienziati dialoghino con molte tradizioni di humanities, ma certamente per le persone che parlano oggi la comune tradizione pragmatista è fortissima da un certo punto di vista, e quello che succede in qualche modo è che questa forte tensione che attraversa l'interdisciplinarità delle scienze cognitive va verso una cosa che è stata etichettata con il nome di For E-Cognition, per cui in qualche modo la cognizione è appunto embodied, extended, enacted ed embedded e questo nuovo modo se volete anticartesiano di smettere di opporre appunto una cognizione che noi abbiamo nella testa o nel corpo sotto la mente o sotto la pelle dell'individuo e pensare invece che la mente è qualcosa di esteso nell'ambiente e che in qualche modo il corpo è connesso con il cervello ed è connesso il cervello è corpo ma è connesso con la mente scusate ma è connesso anche e innanzitutto in qualche modo con quell'ambiente che non è soltanto naturale ma è un ambiente semiotico in qualche modo è un ambiente fatto di linguaggi di testi di pratiche sociali di abiti eccetera queste cose sono diventate mano a mano sempre più centrali anche in discipline che non sono la semiotica quindi da un lato c'era una doppia sfida c'era aggiornare la semiotica al dibattito alle competenze che dobbiamo avere quando facciamo per esempio di percezione o del rapporto tra conoscenza sensibile e linguaggio proprio tutti i temi di Cantadorito Rinco per chi conosce il libro quindi c'era da un lato l'esigenza di aggiornare il sapere semiotico a quello che era successo dentro le scienze cognitive e in particolar modo ripeto il mio riferimento era la for recognition e dall'altro c'era la volontà perché il libro è molto per chi lo legge ha una proposta teorica molto forte non è un libro di rassegno non è un libro compilativo eccetera eccetera è un libro che ha una sua fortissima proposta una risposta alla domanda come conosciamo il mondo attraverso i linguaggi e che cos'è la cognizione quindi da un lato c'era vedere come diciamo nella dimensione esterna cioè quella extrasemiotica c'era vedere come la semiotica potesse intervenire in un dibattito che alle volte è anche molto polarizzato e molto forte per esempio quello sull'idea di rappresentazione ma non solo e potesse da un lato portare i suoi saperi quindi i saperi semiolinguistici che sono fondamentali per appunto Fausto insegna neuroscienze del linguaggio appunto come il linguaggio in qualche modo viene a dare forma alla nostra esperienza del mondo al nostro modo alla nostra cognizione al nostro al nostro modo di abitare l'esperienza le pratiche sociali eccetera eccetera e dall'altro prendere una posizione forte dentro questo panorama della foricognizione che per cognitive semiotics insomma posso spoilerare un pochino senza spero rovinare il piacere del libro se mi farete l'onore di leggerlo che per la semiotica per la semiotica come la penso io per la semiotica cognitiva diciamo 2022 significa in qualche modo prendere posizione per una teoria cognitiva che sia inattivista ed estesa quindi dentro la foricognition in qualche modo due sole delle quattro e quindi da un lato una centralità dell'azione questa idea in qualche modo di un attivismo di un'idea in qualche modo che la cognizione sia una forma di sense making sia una forma di attribuzione di senso sia in qualche modo la costruzione e il ritaglio di nicchie semiotiche che in qualche modo aggiungono sottrazioni nel mondo ambiente e costruiscono sistemi di valori che ci permettono di minimizzare il disordine e di agire in modo efficace e dall'altro questa idea che secondo me è centrale dell'attivismo per cui la cognizione è per l'azione quindi appunto da qui la comune base pragmatista è la forte la fortissima ispirazione del pragmatismo che in qualche modo innerva il mio libro per cui in qualche modo la cognizione non serve a costruire una rappresentazione vera del mondo ma serve ad agire in modo efficace nel mondo quindi ovviamente per agire in modo efficace ovviamente dovremmo anche costruirci delle rappresentazioni vere ma l'idea è che la cognizione è per l'azione ed è in qualche modo appunto questo ovviamente se pensate alla vigente classica dove l'azione era l'output della cognizione mentre la cognizione era computazione su rappresentazioni questo ha tutta una serie di conseguenze che nel libro cerco di cerco di di trarre confrontandomi con molte con molte posizioni per esempio la posizione di Vittorio per citare i presenti dell'emboddy simulation che è rappresentazionalista in senso completamente antitetico da un certo punto di vista quello classico per questo punto la posizione di Vittorio se volete corporea quindi non mentale funzionale disincarnata eccetera eccetera e invece dall'altro con tutta una serie di altre problematiche più legate alla teoria della mente stesa che è molto discussa perché anche su quella c'è un antecedente semiotico che è appunto la teoria persiana che ho davvero perso in qualche modo e era un teorico della mente stesa antelitera insomma è una cosa che forse ho avuto il merito di dire non tra gli ultimi infatti ho avuto i miei più citati e poi a partire da questa doppia base inattivista pragmatista aprire da un certo punto di vista lo studio sulla cognizione a quella che in qualche modo per me è una delle teorie più interessanti recenti che sono state pubblicate che è la cosiddetta teoria del material engagement dove questo parola engagement è fantastico perché sapete che engage è finanziamento anche quando sei inglese quando sei engage con qualcuno vuol dire che ti sei impegnato da un certo punto di vista e sei committed da un certo punto di vista e che è la teoria di Lambrus Malafuris che secondo me è centrale per una semiotica 2022 perché porta dentro il panorama semiotico tre concetti centrali appunto quello di un'estensione della mente la mente non è qualcosa che abbiamo nella testa ma è qualcosa che è estesa nel rapporto di accoppiamento strutturale tra l'organismo e l'ambiente dove l'ambiente in qualche modo è un ambiente semiotico e quindi in qualche modo se vogliamo un'ingegneria dell'ambiente è anche un'ingegneria nostra in qualche modo è un'ingegneria dell'organismo perché c'è appunto questa idea di accoppiamento strutturale di tipo varelliano c'è una concezione inattivista del segno se leggete il libro di Malafuris How Things Shaped Mind trovate che appunto c'è un capitolo sull'inactive science sull'idea che in qualche modo i segni non rappresentano degli oggetti ma sono forme inattive che agiscono a un'agency materiale appunto l'idea di material agency che Malafuris prende da Latour e Latour prende da Grimas è veramente una delle idee più brillanti e più importanti della mia tradizione è un'idea semiotica da Grimas ma non solo da molti altri pensatori classici della tradizione semiotica è un'idea che ha avuto grande fortuna anche attraverso la mediazione di Bruno Latour che adesso è centrale su molte cose in qualche modo l'idea che è una semiotica cognitiva 2022 deve essere fondata su tre principi costitutivi cioè un inattivismo radicale il pragmatismo e una teoria della material engagement che a sua volta appunto implica l'estensione della mente un segno inattivo è una material agency un'agency materiale questa è la proposta teorica che poi viene declinata su tutti i temi indicato retorico quindi quelli che dicevo prima c'è un capitolo sulla soggettività nel linguaggio su come i sistemi semiotici gli ambienti semiotici costruiscono il soggetto e quindi in qualche modo se volete nel rapporto tra l'organismo e l'ambiente c'è secondo me una trattazione semiotica di cui sono molto orgoglioso e che mi piace molto una declinazione semiotica di un concetto centrale dell'anativismo in particolar modo il pensiero di Di Paolo appunto Vittorio citava che dirigo questo centro di anativismo simatico cognitivo ieri abbiamo avuto proprio ospite Ezequiel Di Paolo lì che è il concetto di sense making che se volete è un concetto centrale del libro che io cerco di declinare in modo semiotico poi c'è un capitolo sull'estensione della mente sul pragmatismo sugli abiti sulle norme sugli usi eccetera eccetera su tutta una serie di teorie di problemi transdisciplinari sul confine tra scienze del linguaggio e scienze cognitive e quello penso sia un capitolo interessante sotto molti punti di vista che si chiude con una trattazione delle idee di rappresentazione poi c'è un capitolo sulla cognizione sociale dove ovviamente mia relazione il mio rapporto a quelli che per me sono i lavori centrali di Sean Gallagher e Dan Hato sulla narrative practice hypothesis da un lato e dall'altro il lavoro di Vittorio sulle body simulation e in qualche modo tutte le teorie un po' alternative all'idea di teorie della mente o di mind reading come centrale per la cognizione sociale da qui c'è anche la costruzione di un modo propriamente semiotico di analizzare l'interazione proprio l'interazione è un agire insieme è una forma inattiva e semiotica di dare senso all'esperienza condivisa e attraverso questa analisi dell'interazione c'è anche ed è questo uno dei progetti che Vittorio generosamente citava all'inizio uno dei progetti che dirigo c'è anche questa cosa che noi facciamo molto empirica sull'analisi dei disturbi dello spettro autistico quindi in qualche modo su come bambini in età prelinguistica attraverso l'analisi dell'interazione possano essere in qualche modo possano essere la semiotica possa aiutare a leggere eventuali possibili futuri disturbi connessi allo spettro autistico eccetera eccetera e poi c'è l'ultimo capitolo che forse quello che mi ha costato più fatica quello in assoluto forse anche più orgoglioso che il capitolo sulla percezione dove c'è una teoria credo altrettanto radicale quanto originale ma scusate l'autosanzione per cui la percezione è fondata sull'immaginazione quindi centralità dell'immaginazione sulla percezione e in qualche modo la percezione è una forma di allucinazione controllata dove appunto la strutturazione morfologica dell'immaginazione che noi abbiamo nel sogno per esempio quando 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 sogniamo appunto nell'allucinazione appunto nell'immaginazione resta costante fornisce in qualche modo il core della percezione e quello che succede invece nella cosiddetta percezione online è che il mondo controlla l'attività morfogenetica dell'immaginazione qui c'è tutta una trattazione che connette la semiotica al cosiddetto cervello maesiano e quindi a tutta la teoria del predictive processing di Andy Clark ma di molti altri eccetera eccetera riprendendo alcuni temi di Cantelorito Rinco che sono stati classici per la teoria semiotica e propone credo una cosa estremamente interessante dal mio punto di vista lo era cioè una declinazione persiana se volete semiotica del matching tra l'attività gestaltica dell'immaginazione e il controllo che il mondo in qualche modo opera su questa attività morfogenetica che appunto dal mio punto di vista e spero di convincere se leggerete il libro viene fatta attraverso quello che i semiotici chiamano un pensiero diagrammatico l'idea di diagrammaticità che è centrale per una certa semiotica e attraverso l'idea di narratività proprio in senso proprio in senso semiotico in conclusione se volete c'era questa mi piace citare una una cosa di vita e poi dopo poi mi taccio perché lascio a Fausto e a Andrea un po' dire qualcosa da essendo loro i miei lettori modello uno per la dimensione interna Andrea e l'altro per la dimensione esterna Fausto il libro nasce certamente da un'esigenza di essere un po' allievo del tuo maestro nel senso che quando fa un po' ridere che il canto di tengo è stato un libro sfortunato perché in realtà è stato il libro se volete più apprezzato di eco fuori dalla semiotica ma dentro la semiotica non è stato secondo me così amato e così sfruttato come avrebbe potuto e forse voluto essere nelle intenzioni di Umberto e quindi c'era certamente quello ma c'era una cosa che mi è successa proprio visto che c'è Andrea qui negli anni del dottorato che era una specie di piccolo debito perché io passo il periodo all'estero del dottorato a Parigi vado da Jean Petitot Petitot che è un grande semiologo allievo di René Tom che era un grande matematico e collaboratore di Gray Mass quindi che lavorava ha scritto questo libro straordinario che si chiama Morfogenesi del senso dove appunto connette l'epistemologia semiotica con il pensiero morfologico da Darcy Thompson fino a Goethe appunto a René Tom alla matematica alla teoria delle singolarità eccetera eccetera e ha le scienze cognitive perché poi è uno degli autori che scrivono questo straordinario libro che è stato pionieristico per molte cose che si chiama Naturalizing Fenomenology cioè naturalizzare la fenomenologia che ha dato veramente vita poi a tutto un filone che è stato molto fortunato negli ultimi anni e la cosa che succede quando io vado da Jeanne e andavo per una formazione strettamente semiotica ecco Jeanne aveva lo studio a fianco di Francisco Varela che lavorava al Crea in quegli anni Francisco era morto in quegli anni ma erano proprio gli anni in cui era subito subito dopo la sua morte e quindi c'erano moltissime moltissime cose sul suo pensiero come succede sempre l'anno dopo quando muore qualcuno di così grande importante no? pensate cosa era successo per Derrida no? questa è la ragione per cui giusto per ritornare su Eco Eco ha vietato per dieci anni di fare convegni su di lui per evitare questa forma di se volete orgia interpretativa troppo vicina alla scomparsa di uno studio ma io mi ritrovai da quel punto di vista proprio dentro e insomma chi ha letto Varela lo sa è un pensatore di un fascino incredibile era un vero genio e quindi la lettura di Varela mi da un certo punto di vista mi influenza molto e ne parlo in molte occasioni competitore e Jean vedeva una contraddizione tra Varela e la semiotica l'idea di Jean che tutto l'attivismo era il tentativo di costruire una teoria della cognizione antirappresentazionalista mentre appunto Jean diceva Claudio la semiotica fondata sull'idea di rappresentazione e questo libro è invece forse il tentativo di mostrare come queste due cose cioè l'inattivismo e la semiotica non solo possono stare insieme ma devono stare insieme perché è per tutte le ragioni che dico nel libro che sono ragioni non solo teoriche non solo filosofiche non solo semio linguistiche ma sono anche ragioni se volete molto empiriche credo che se c'è un punto di forza del libro credo che si può vedere proprio sfogliando la bibliografia è che c'è moltissima letteratura empirica ho letto molta letteratura sperimentale non si può fare una teoria delle percezioni nel 2022 senza sapere che cosa succede nei laboratori di psicologia ecco e quindi c'è stato questo lavoro questo lavoro forte da un certo punto di vista anche molto dispendioso ma quello che si voleva fare era appunto tenere insieme varie le cose che ho letto comunque la semiotica e l'inattivismo ecco questo è il panorama generale di quello che ho provato a fare con Cognitive Semiotics bene grazie Claudio per questa bella introduzione darei la parola a Fausto Caruana sì eccomi qua grazie mille mi sentite bene sì benissimo bene ok allora grazie grazie Claudio allora cerco di essere breve la la prima cosa è che che mi ha stupito con leggendo il libro è che però è una cosa che ho trovato anche in altri libri che sono fatti diciamo all'intersezione tra scienze cognitive scienze umane ma mi è sembrato ancora più chiara in quello di Claudio è che contrariamente a quello che uno potrebbe pensare le malilingue delle neuroscienze i neurofobici per esempio di solito dicono che si cerca di sciacquare i panni delle scienze cognitive per rendere le cose un po' alla page e quindi di metterci un po' di scienze cognitive invece la cosa sorprendente in questo libro dico anche in altri non so penso Malafuris citato prima c'è per esempio Michele Cometa nell'ambito della critica letteraria lo stesso Vittorio Gallese con Michele Guerra nella teoria del cinema Matteucci per l'estetica però ripeto di più in questo caso mi sembra che sia chiaro che c'è un problema cioè che le scienze cognitive vengano utilizzate per risolvere un problema interno alla disciplina no? questa è una cosa che mi sembra molto molto chiara in questo libro cioè mi sembra che uno dei punti centrali che fanno nascere tutto il discorso è una sorta di stallo tra diciamo il vecchio dibattito per banalizzarlo tra natura e cultura no? perché mi sembra di aver capito io non sono un semiologo però mi sembra di aver capito dal libro che uno dei punti che erano un po' di stallo in un certo senso o meglio visto con gli occhi di oggi sembrano un po' più uno stallo nell'opera di Eco erano una sorta di diciamo schizofrenia tra la tentazione di una semiotica culturale alta e invece quello che tu chiami il livello basso se non ricordo male lo chiami il livello basso della semiotica la biosemiotica i segnali semiotici la struttura semiotica della comunicazione animale allora secondo me uno dei punti di vantaggio è questo che si riesce a sciogliere in maniera molto naturale questa dicotomia io sono un po' allergico a queste dicotomie un po' perché sono un fan diciamo dell'evoluzionismo di Darwin eccetera un po' anche come neuroscienziato sento che oggi c'è molta spinta verso la cultura a scapito della natura invece mi sembra che in questo libro c'è un modo molto fisiologico molto naturale di sciogliere questa dicotomia e superando quindi anche mi sembra un dibattito appunto interno alla alla semiotica stessa io di solito dico che per esempio tutti gli studenti di filosofia al primo anno dovrebbero studiare etologia perché c'è tantissima filosofia che non tiene conto della della semiotica della comunicazione animale semplicemente perché non la conosce o perché quando hanno scritto certi libri certe cose non si sapevano quindi secondo me questo è un punto molto interessante appunto che spiazza chi sostiene che queste operazioni sono fatte in qualche modo per stare sul coro diciamo per cavalcare i tempi questo mi sembra un libro interno al dibattito della semiotica che naturalmente passa c'è qualcuno che ha un microfono acceso che naturalmente passa attraverso le scienze cognitive e infatti Claudio pur non essendo un neuroscienziato come ha detto si è però letto un sacco di roba che va in quella direzione e quindi il fatto che le scienze cognitive vengano in qualche modo sfruttate per rendere un servizio a altre discipline mi sembra anche quasi un regalo nei confronti delle scienze cognitive non un regalo alle scienze cognitive poi c'è un tema cerco di elencare sono tre aspetti diciamo che volevo sollevare un secondo aspetto che secondo me è molto interessante è che e che mi sembra connesso a quello che ho detto sopra è che si parte da una definizione questa sì di eco mi sembra di semiotica come di tutto quello che può essere usato per mentire per raggiungere una considerazione che stavolta non è solo di semiotica ma è davvero anche di scienze cognitive che dice sì ma attenzione perché noi abbiamo un concetto di falsità diciamo di falso ereditato dalla tradizione della logica matematica poi della filosofia analitica come dell'opposto del vero dire il falso come dell'opposto del dire il vero mentre invece dice Claudio attenzione perché le cose non stanno così il falso è un'operazione in qualche modo creativa che richiede risorse cognitive qui fa riferimento anche ad alcuni studi appunto di scienze cognitive addirittura di neuroscienze per dire che appunto dire il falso non è il contrario del dire il vero è qualcosa di molto diverso ed è molto di più poi partendo da questo aspetto però ed è una cosa che mi è piaciuta molto si crea cioè Claudio ci dice non solo dire il falso non è il contrario del dire il vero però attenzione anche perché il dire il vero è connesso a una serie di pratiche un po' errone legate all'idea che la rappresentazione è il copiere dal vero no? e questo passaggio mi sembra che sia quello che permette poi alla semiotica cognitiva proposta da Claudio di agganciarsi al pragmatismo prima e all'enattivismo dopo no? cioè all'enattivismo dei giorni nostri però questa diciamo questo bagaglio semiotico che si porta dietro gli permette poi di formulare dei concetti che secondo me sono il vero diciamo gioiello all'interno del libro come quello di rappresentazione semiotica e di stuttura semiotica e lo dico perché perché secondo me questo bagaglio è quello che permette da un lato di rifiutare come hai detto tu Claudio prima una tradizione rappresentazionalista diciamo che ha mostrato la corda ma dall'altro anche di superare però le tentazioni eccessivamente diciamo anti-rappresentazionaliste che si trovano in alcuni circuiti dell'enattivismo come per esempio non so mi viene in mente il primo libro di Dan Atto con Min alcune cose sicuramente molte cose di Anthony Cemero alcune cose di per esempio anche lo stesso Gallagher cioè che corrono il rischio di buttare il bambino a quell'acqua sporca cioè tale è la furia contro le rappresentazioni del contenuto che poi si rischia di fare una bella opera di distruzione ma con una scarsissima opera costruttiva mentre invece mi sembra che il tuo riferimento al fatto che esiste una struttura semiotica che sta sotto e che permette di recuperare alcuni aspetti della rappresentazione pur non identificandosi no perché tu ripeti più volte che secondo Peirce per esempio mentre tutte le rappresentazioni sono segni non tutti i segni sono rappresentazioni quindi ci permette in qualche modo di fare un passo secondo me avanti importante io credo che il problema della rappresentazione sia uno dei problemi centrali che c'è in filosofia della mente e in scienze cognitive e credo mentre è molto suggestiva l'opera di distruzione di alcuni appunto l'inattivismo radicale eccetera però poi ti lascia un po' con un senso di insoddisfazione perché diciamo vabbè siete stati bravi a criticare siete dei criticoni però poi la parte costruttiva sembra non essere facilmente recuperabile quindi ci sono alcune tentazioni cioè alcune innovazioni alcuni tentativi come per esempio quello di Vittorio quando parla di rappresentazione in formato corporeo o anche Alvin Goldman ha parlato di rappresentazione in formato corporeo tu parli di rappresentazione semiotica che è altrettanto interessante e però e questo è il terzo punto poi pianto lì ci permette in qualche modo di affrontare anche un altro tema in versione nuova cioè il tema per esempio della teoria narrativa di Dan Atto tu avevi scritto anche un articolo qualche anno fa su Phenomenology in The Cognitive Science che in qualche modo cercava di rileggere appunto la teoria narrativa cosa che poi rifai anche nel libro utilizzando però il bagaglio della semiotica cognitiva dicendo che se noi facciamo riferimento a un'accezione semiotica anziché a un'accezione rappresentazionalista o addirittura linguistica di narrativa riusciamo a colmare lo iato che c'è tra la dico in maniera brusca tra chi parla e chi non parla perché questo qui è un altro problema grosso secondo me c'è una tradizione in filosofia non so penso a John McDowell per esempio che ha cercato di creare uno spartiacque tra chi parla e chi non parla però la cosa curiosa è che se poi anche si va a vedere chi ha un approccio più naturalistico addirittura evoluzionista non so penso per esempio all'ultimo libro di Dennett no forse ne ha scritto un altro quello i batteri e bat oppure addirittura non so alcune cose di John Dewey anche lì si vede che il linguaggio rappresenta un problema perché costringe a fare un salto ancora una volta tra natura e cultura da un salto dove la quantità diventa qualità e anche qui secondo me è una cosa problematica e lo stesso Dennatto quando ha fatto il secondo libro con Min credo abbia un po' si è andato un po' a sbattere con questo problema perché finché trattava le basic mind del primo libro tutto andava bene quando poi ha cercato di recuperare la dimensione culturale insomma ha avuto quasi una posizione conservativa da conservatore diciamo quasi poi siamo controllato e da un atto non è connesso se no sarei più cauto nel modo di parlare quindi mi sembra che il riferimento alla struttura semiotica e al concetto di rappresentazione semiotica permettano davvero di fare un passo avanti rispetto a questo dibattito e permettono a questa proposta di essere non una l'ennesima diciamo l'ennesimo diciamo un pugno che viene dato alla teoria classica ma viceversa mi sembra che abbia una potenziale costruttivo oltre che distruttivo molto importante secondo me questo qui è uno dei valori aggiunti di questo volume questo è quello che diciamo ho cercato di essere stretto poi magari riaffrontiamo questi punti ma anche perché non volevo mettere troppa carne nel fuoco però questo è quello che volevo dire hai il microfono credo spento Vittorio sì scusate diamo la parola a Andrea Valle e dopodiché direi che d'obbligo una controreplica di Claudio prima di aprire la discussione prego Andrea beh intanto buonasera a tutti sono molto contento di essere qua sono un po' punk nel senso che mi muovo in contesti diversi sempre in maniera come dire un po' saltellando e sono contento di essere in questo contesto in cui mi ha invitato Claudio che però appunto coinvolge le neuroscienze di formazione sono un semiologo a vedere il mio curriculum sembra che mi occupi tipicamente di cinema io mi occupo io mi occupo di cinema dal punto di vista accademico ma mi occupo di un po' di cose diverse e giusto per contestualizzare mi sono addottorato nel 2004 c'era anche Claudio fortunatamente non si è presentato all'esame di dottorato al mio anno così sono riuscito ad entrare io e a proposito di memoria di quegli anni sono molto d'accordo con la ricostruzione di Claudio che però in questo ventenni è diventato molto più moderato probabilmente perché un ruolo istituzionale l'avesse detta vent'anni fa l'avrebbe detta sicuramente in maniera molto più transcianti io penso che molta semiotica sia una cattiva sociologia una cattiva mediologia e che ci sia una scarsità di riflessione teorica ricordo che intorno agli anni 2000 si lavorava su corporità e su percezione aveva dato di un contributo fondamentale ad esempio all'epoca Jacques Fontanis con poi quel libro che in italiano è uscito come figura del corpo ed era un tema interessante affrontato una prospettiva fenomenologica psicoanalitica e su cui però in tanti abbiamo iniziato a lavorare in particolare ho scritto una tesi sull'udibile quindi sull'idea di percezione uditiva e sul rapporto con la semiotica e anche in quel caso c'era però un problema e il problema che mi aveva sempre stupito è ma com'è che si parla di corporità di percezione e non si va a studiare la percezione e vedere come funziona questo è secondo me un limite un limite un limite fondamentale per la per la semiotica a proposito di come dire di Amarcord sono convinto anch'io della ricostruzione di Claudio che come dire quei due libri siano molto importanti 97 98 quelli di Patrizia Violi e di Umberto Eco l'ultimo appunto non l'ultimo canta l'ornitorinco c'era un tema che secondo me ritorna nel libro di Claudio che è stato introdotto e discusso in quegli anni e che si è perso ed è il tema di schematismo che Claudio infatti reintroduce in Cognitive Semiotics lo schematismo a partire dalla lettura cantiana se non sbaglio se ne occupava sicuramente Eco se ne occupava anche Petito e in quegli anni tra l'altro se ne occupava come idea di mediazione attraverso l'immaginazione un filosofo importante italiano che fa tante cose diverse e che è Maurizio Ferrari in estetica razionale c'è tutta una teoria della traccia come condizione trascendentale della presenza che però come dire ha un suo modello a partire dallo schematismo cantiano riletto attraverso una lettura teoretica di di Derrida e infatti su questo tema penso che Claudio sarà d'accordo con me e si ricordi discutevano e discutevano Eco e la sua idea di semiotica cognitiva e Ferraris e la sua idea di iconologia cioè di teoria della traccia allora venendo al libro io questo libro mi è piaciuto moltissimo sono stato molto stupito l'avevo detto a Claudio perché nel mio percorso abbastanza bizzarro però mi sono trovato insegnando dopo molti anni semiotica e avendo fatto un percorso di letture totalmente eterogene mi sono trovato molto d'accordo e molto d'accordo con un percorso che però non è certo il percorso strutturato che ha fatto Claudio però un percorso di appunto letture recentemente molto legate alla biologia e mi sono trovato a ragionare proprio su un'idea di fondazione del del segno a partire evidentemente da una insufficienza che è quella di parlare di semiotica parlando solo di questi oggetti complessi e complicati e articolati e sofisticati che sono i testi perché io ho iniziato a fare semiotica correva l'anno del signore il 1993 e la cosa che mi affascinava mi affascinava il primo libro che ho letto che era Aspetti della semiotica di Gian Paolo Caprettini il mio maestro era le discussioni sui vari sistemi di bandiere su che cos'è un indizio eccetera ecco allora evidentemente il problema della fondazione di questo funzionamento è un a mio parere un problema fondamentale è di più basso livello però come dire il gradino su cui si costruisce una dimensione supplementare allora cerco di farla breve io mi sono preso un po' di appunti però ci ho sei punti che cerco di dire in maniera più stringata possibile sul libro di Claudio mi sono sparsi praticamente interessati la prima è un'idea di vocazione integrativa che ha il libro di Claudio cioè Claudio riesce ed è un'operazione notevole che a me non riesce mai ma lui riesce molto bene riesce a tenere insieme i suoi amati Perse Eco le neuroscienze un quadro ecologico evolutivo ma anche Iemslow l'idea di opposizione partecipativa Tenier l'idea di grammatica dipendenza e Green Mass e quindi questa vocazione questa vocazione integrativa mi sembra particolarmente importante in un libro che ha una vocazione teorica che quindi non è esclusiva ma per dirla appunto come forse piacerebbe Claudio è partecipativa il secondo punto è che c'è una direzione in cui il libro mi sembra che punti che è accennata ne ha parlato anche Fausto ma mi sembra come dire non particolarmente riferita probabilmente per questioni giustamente strategiche redazionali cioè l'idea appunto di biosemiotica in cui io non sono un esperto ma che però ho iniziato a leggere allora Claudio preferisce ragionare con le neuroscienze è chiaro che però molti punti come dire del suo ragionamento hanno contatti con l'idea con la biologia con la biosemiotica il primo ad esempio è appunto quello di evitare l'idea di semiotica come logica della cultura Claudio non lo dice però la questione in qualche modo sembra attivare non so che cosa ne pensi il cosiddetto principio di sebe con un altro sibio che è un altro pensatore che fondamentalmente in Italia non considera in Italia e Francia non fila nessuno salvo appunto gli specialisti principio di sibio che dice che il vivente è semiotico e mi sembra interessante perché la grande partizione tra vivente e non vivente intanto l'enfasi un altro punto a proposito di questo ragionamento è l'enfasi che fa Claudio che come dire è molto tecnica ma ovviamente come dire titilla il mio interesse che è la distinzione tra razio facilis e razio difficilis in altri termini l'idea che la razio facilis è il principio sossuriano dell'arbitrata del segno cioè in qualche modo c'è un sistema organizzato in un modo che è totalmente indipendente da un altro sistema a cui è correlato la razio difficilis invece in qualche misura presuppone una forma di accoppiamento nel senso del coupling tra un sistema e l'altro come dire punto a punto se non in termini di biezione però in termini appunto proiettivi allora la razio facilis è tipica del linguaggio verbale ed è il modello del segno e dell'interpretazione storicamente in semiotica in realtà non vale neanche del tutto per il linguaggio verbale di sicuro vale per un insieme di sistemi formali dai semafori le bandiere che abbiamo citato prima ai linguaggi di programmazione che a me interessano moltissimi moltissimo però ad esempio però ad esempio non vale per tutto un altro un altro insieme di funzionamenti cioè di funzioni semiotiche Claudio ad esempio fa giustamente l'esempio dell'indice quindi il linguaggio parrebbe e poi correggetemi però come dire nella sua determinazione in specie specifico la semiosi in qualche misura è biospecifica cioè è legata al vivente in quanto tale tipicamente lavora per razio difficile cioè in qualche modo per accoppiamento di strutture questo aspetto ad esempio è stato sottolineato proprio in un libro che si chiama un librino interessante che si chiama Ecosemiotics da Timo Maran che dice dobbiamo smettere di pensare i semiologi strutturalisti hanno sempre pensato il segno secondo il modello del linguaggio verbale e hanno sempre sbagliato fondamentalmente perché catturano solo una piccola parte del funzionamento semiotico d'altra parte a ben vedere anche come dire l'attività del linguaggio spesso un'attività di tipo che lavora per razio difficile cioè l'attività neologistica ad esempio lavora per razio difficile cioè in Italia se devi inventare un cognome devi trovare un buon criterio non è che puoi chiamare uno XYZ allora storicamente ci sono quattro criteri nelle storie dei cognomi in Italia il lavoro ad esempio fabbri il luogo ad esempio io sono valle il tratto fisico basso la genealogia forse non sono sicuro Paolucci quindi in qualche misura c'è un'idea proprio di accoppiamento e di costruzione per motivazione si direbbe in termini tecnici questo campo mi sembra interessante perché avevo iniziato a ragionarci come dire riapre il dibattito su una nozione complicatissima filosoficamente come dire densissima che è l'idea di analogia che però mi sembra potenzialmente come dire una roba su cui ragionare un altro punto è che dicevamo il vivente è orientato rispetto al valore Paolo scusatemi Claudio ho fatto una crasi tra cognome e nome cita l'idea di telosemiotica il valore è una sorta di obiettivo una forma di direzione e in qualche misura appunto questo principio che avevamo citato prima definisce una differenza epistemologica tra il vivente che è orientato in avanti teologicamente e il non vivente che in qualche misura come dire funziona per rapporti di tipo causale ad esempio quest'idea qui è sottolineata in maniera molto forte da Jesper Rockmeyer nel suo libro Biosemiotics e infatti tutto il suo ragionamento è informato alla semiotica di Peirce quindi mi sembra che ci sono dei contatti molto stretti e interessanti questo punto mi pare che si colleghi alla discussione ovviamente affascinante io sono d'accordo con Claudio quello è un capitolo molto bello sulla percezione come allucinazione controllata in cui l'attività proattiva in qualche modo appunto viene corretta attraverso il calcolo dell'errore di predizione su questo punto mi pare interessante far notare come ad esempio un autore come Godfrey Lewis abbia sottolineato che questa proiezione in avanti sia una caratteristica del vivente e sia una caratteristica comune a tutti i metazoi metazoi è il titolo che probabilmente conoscerete dell'ultimo libro di Godfrey Lewis dice che Godfrey Lewis fondamentalmente gli studi recenti fanno osservare come la memoria sia future oriented cioè la memoria in altri termini non è un colombario come modello classico se lo vogliamo aristotelico ma è una sorta di cucina del futuro cioè il modo in cui si costruisce il futuro questo mi sembra un punto interessante per Godfrey Lewis l'idea che la coscienza quindi la soggettività la mente sia in qualche modo una qualità emergente a diverse gradazioni prende delle vie potenzialmente molto diverse ad esempio il primo libro famoso di Godfrey Lewis è molto affascinante Other Minds altrimenti che è dedicata ai cefalopoli e in particolare al polpo che ha un'idea proprio di cognizione distribuita ma distribuita nel corpo cioè tra autonomia molto larga ad esempio dei tentacoli rispetto a un controllo centrale d'altra parte sappiamo che c'è una relazione molto variabile in effetti della intelligenza diciamo così della soggettività rispetto all'encefalizzazione per dire i corvi c'è un altro libro molto bello che si chiama La mente del corvo sono tutti libri come dire sono usciti tra l'altro recentemente in blocco nella serie Animalia come probabilmente saprete della Adelphi nella mente del corvo si vede che il corvo è intelligentissimo cioè bravissimo a risolvere problemi nuovi cioè nuovo è la chiave la risoluzione di problemi nuovi allora la percezione come allucinazione controllata non possiamo fare a meno dei nostri pregiudizi diceva Peirce è un tema che rispetto al primus figurativo della percezione è stato accennato in qualche modo anche da Grimas in un librino che si chiama dell'imperfezione lo ricordava Gianfranco Marrone io non sono secondo il quale un grande libro poco considerato io non sono d'accordo secondo me è un librino molto minore però questo tema effettivamente c'è ne aveva però discusso sull'idea come dire della primità del figurativo cioè del riconoscimento Pierceffer nel 66 nel 3 tedesco che è un strano volumone Claudio saprà io sono un cultore dedicato a una sorta di fenomenologia del sonoro e allora nella grammatica dell'ascolto di Schaeffer che è una sorta di grammatica filosofica in cui l'ascolto viene distribuito lungo quattro termini cioè ascoltare udire intendere comprendere l'idea è che si parte dall'ascoltare e l'ascoltare è ricondurre un suono alla sua sorgente figurativa ed è primo cioè è un punto di partenza mentre l'udire inteso come una sorta di rifocalizzazione sul percetto è una sorta di asintoto verso cui ci si può muovere in qualche modo questo quadro mi sembra interessante perché è un quadro tra l'altro mi sembra come dire di mettere di aggiungere dei pezzi che mi paiono coerenti con quanto col quadro teorico di Claudio il punto di riferimento per me in ambito uditivo è la cosiddetta analisi della scena uditiva di Albert Bregman uscita nel 1990 e nell'auditoris in analisi dice Bregman letteralmente qual è l'output dell'auditoris in analisi cioè cosa deve fare il sistema il sistema uditivo è una prospettiva ecologica evolutiva dice deve produrre una cito a nice consistent story about the sound è molto bello una bella coerente storia a proposito del suono 1990 appunto il volumone di Bregman narrativizzazione figurativa come output del sistema percettivo e il sistema uditivo tra l'altro lavora primariamente integrando il tempo tutta la percezione ovviamente nel tempo però come dire che la temporalità in qualche usura sovra determini l'ascolto è abbastanza un fatto fenomenologicamente scontato l'operazione fondamentale dice Bregman è quella di fare una sorta di nell'ascolto si fa una sorta di streaming cioè si prende si fa lo spettro complessivo viene segregato in flussi e questi flussi devono essere la razza che guida questa segregazione è che i flussi devono essere riconducibili riconducibili a specifiche sorgenti però Bregman è interessante rispetto all'idea di percezione controllata e predizione dell'errore tematizza l'idea dell'errore allora il sistema uditivo è dotato infatti dice Bregman di euristiche che quindi sono strategie non deterministiche cioè di solito funzionano che possono essere hardwired ad esempio principitico cristaltico che ricorda Claudio oppure possono essere evidentemente appresi cioè se studio orchestrazione so riconoscere un fagotto se no no e allora come si sceglie tra diverse euristiche che offrono organizzazioni potenzialmente diverse dice Bregman like voting cioè come se le euristiche alzassero delle palette e votassero allora sembra interessante questo modello della percezione uditiva perché Claudio più volte cita la dominante visiva diciamo greca alla base di molte nozioni filosofiche e forse in qualche misura è venuto il momento di spostare il modello verso l'uditivo come mi piace dire a me verso il dominio udibile che offre in effetti delle forme non opposte ma diverse allora a proposito di rappresentazione poi un altro punto ma mi taccio su quello però a questo punto scusatemi ma vorrei ancora dirlo rappresentazione è un tema di cui ho parlato anche Fausto mi sembra interessante allora rappresentazione come produzione allora visto che facevamo un po' la marcord dei bei vecchi tempi a Bologna in un seminario di un migliaio di anni fa io e Claudio eravamo presenti e si discuteva con Eco di questa teoria dei modi di produzione segnica che è una cosa su cui ho molto lavorato perché mi sembra molto interessato senza fediare il gentile pubblico produzione segnica è un concetto ecchiano poco usato ma cruciale mi sembra che abbia un momento adesso di recupero perché è secondo me radicalmente pragmaticista per dirla appunto alla Peirce cioè il segno la funzione segnica è sempre il risultato di un lavoro produzione segnica cioè si fa è un lavoro fisico costa dell'energia produrre dei segni quindi è sempre prodotto e si produce evidentemente perché se ne ha bisogno è il segno l'utensile per poter fare delle cose ed è segno evidentemente la soluzione del mistero per chi mi serve per ridurre in qualche misura una quantità di incertezza allora tra i modi di produzione segnica cioè ad esempio si parla di per capirci di ostensione indizio segnale eccetera tra i modi di produzione dice ecco c'è il riconoscimento questa è una cosa su cui io avevo lavorato perché l'idea è che il riconoscimento è una cosa un po' strana se io confronto l'idea di riconoscimento con l'idea di ostensione cioè faccio vedere espongo ostendo un oggetto in un caso sono io che riconosco un'attività riconoscimento nell'altra sono io che faccio una cosa prendo per dire un uovo e dico questo è un uovo allora sono due modi un po' diversi e nella mia lettura che potrebbe anche essere sbagliata l'idea è che il riconoscimento è una sorta di metamodo cioè che il riconoscimento è leggere il mondo come se fosse il risultato di un lavoro ad esempio l'ostensione vuol dire che io riconosco metamodo un altro lavoro allora un tema di Claudio la rappresentazione dicevamo antirappresentazionalismo ma dice Claudio le rappresentazioni possono anche servire no? l'abbiamo detto anche con Fausto una lettura si può dare una lettura in questi termini e secondo me sì io vorrei proporvela perché è una lettura che come dire su cui ho un po' ragionato cioè ad esempio io riconosco un'ostensione dice ecco posso riconoscere un'impronta posso riconoscere un indizio questo implica una sorta di modalità ricorsiva cioè un modo di produzione del riconoscimento ne regge un altro l'ostensione ad esempio ma che succede se io tra i modi che riconosco c'è il riconoscimento cioè cosa vuol dire riconoscere un riconoscimento allora ecco mi sembra una definizione potenzialmente utile in semiotica di rappresentazione cioè un riconoscimento interno qualcuno che ha un punto di vista su una cosa stabilizzato allora questa idea Claudio tra l'altro l'ha discutito perché parla di illeità degli interpretanti cioè l'idea che l'interpretante stabilizzato è un punto di vista sulle cose allora l'idea è che riconosce un riconoscimento e prendere in carico un punto di vista in qualche misura strutturato e organizzato e questa effettivamente potrebbe essere una buona utile nozione come dire descrizione in termini di produzione proprio di riconoscimento e chiudo a questo seminario che ricordavamo ecco come al solito come dire silenzioso di data a un certo punto tirava fuori la zampata ha detto ridendo a proposito di questa nozione appunto di produzione di riconoscimento perché quello che diceva la sua teoria dice Claudio se lo ricorderà hollywood o cinecittà cioè l'idea che l'industria cinematografica produce produce delle rappresentazioni questo mi sembra un tema interessante ne avevo un altro paio ma mi taccio perché sono stato già fin troppo lungo spero di essere stato vagamente comprensibile grazie 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 Andrea direi che a questo punto la palla ripassa a Claudio e poi abbiamo già una domanda di Marco Meneghelli ma darei la parola senz'altro a Claudio io innanzitutto ringrazio perché insomma poi quando si hanno queste occasioni di essere letto in modo così attento così pertinente e anche così generoso insomma è veramente molto bello insomma quindi vi ringrazio per l'aspetto euforico di questa di questa presentazione parto dalle cose di Fausto e e mi fa veramente molto piacere quello che Fausto dica che quella parte sulla sulla rappresentazione la trovi insomma la trovi euristica in qualche modo la trovi un punto la trovi un punto di forza perché anche io penso che che sia esattamente così nel senso che spesso quando i dibattiti si polarizzano si perde di vista qual è l'oggetto che si deve spiegare e invece si tende in qualche modo semplicemente a costruire una teoria che serve a parlare contro le altre da un certo punto di vista quando invece in qualche modo una posizione deve spiegare un problema da un certo punto di vista e e allora quello che io sono a cui sono molto affezionato lo reputo veramente un punto un punto di forza di quello che che ho provato a fare mi fa molto piacere che che Fausto l'abbia notato che sia d'accordo con me è di far vedere che non c'è questa opposizione non è esclusiva cioè non dobbiamo scegliere se essere rappresentazionalisti o anche rappresentazionalisti dobbiamo vedere quali sono in qualche modo le cose che in qualche modo un po' la cassetta degli attresti che ci servono per spiegare come funziona la cognizione come funziona il nostro modo di dare senso all'esperienza come funziona il nostro modo di processare informazioni come funziona il nostro modo di agire in funzione di quello che sappiamo di quello che percepiamo eccetera eccetera e allora se questo è così ovviamente noi abbiamo ovviamente bisogno di una costruirci un'immagine delle cose se vogliamo e di lavorare in assenza tutte quelle cose che in qualche modo sono legate all'idea 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 di rappresentazione ma allo stesso tempo appunto quello che diceva Fausto quando io dico inizialmente tutte le rappresentazioni sono i segni ma non tutti i segni sono rappresentazioni e in qualche modo c'è anche qualcosa che cede dietro dietro in qualche modo alla cognizione questa cosa questa cosa ovviamente gli inattivisti cercano di coglierla e forse la colgono da un certo punto di vista fondamentale ma poi la rendono in qualche modo hanno la necessità di renderla a spiegazione to cure di come funziona la cognizione e forse questo non è non è il caso dall'altro lato invece l'opzione esclusivamente rappresentazionalista per cui la cognizione è rappresentazione è viceversa in qualche modo allo stesso modo se vogliamo troppo radicale chiamiamola come o troppo ristretta chiamiamola come come vogliamo e da questo punto da questo punto di vista secondo me è una cosa che mi convince ancora leggendola prima mentre Fausto parlava l'avevo andato a guardare un po' con l'ultimo paragrafo eccetera eccetera dove faccio vedere che questa idea di rappresentazione interna come la classica idea di rappresentazione che appunto è molto di moda ma in filosofia della mente ma in psicologia in moltissimi in moltissimi ambiti disciplinari veramente quando Fausto scriveva sui sistemi intelligenti il suo commento a Nunes in qualche modo individuava proprio questa idea forte di rappresentazione qualcosa che univa ancora molte delle scienze delle scienze cognitive e l'idea è che però questa rappresentazione interna sia se vogliamo in qualche modo in qualche modo l'elezione a modello di una cosa che noi conosciamo davvero e che davvero funziona nel mondo e di cui abbiamo che vedere tutti i giorni che è la rappresentazione esterna cioè che sono i segni cioè noi quello che fa che fanno gli rappresentazionalisti dentro le scienze cognitive in qualche modo è l'elezione a funzionamento della cognizione di una cosa che noi conosciamo che è la rappresentazione semiottica cioè i segni esterni che vengono in qualche modo e questo modello di segno esterno che funziona in quanto esterno Andrea mi citava tutta una serie di esempi che hanno tutta una serie varietà dal sistema delle bandierine fino al linguaggio questa cosa diventa il modello di spiegazione della cognizione mi sembra che fosse non ricordo se era stroso o forse diceva una cosa del genere non mi ricordo l'idea è che noi abbiamo costruito un'idea di rappresentazione di questo tipo perché in qualche modo il nostro modello della cognizione era il linguaggio cioè era il linguaggio verbale in qualche modo il linguaggio verbale funziona semioticamente in un determinato modo questo mi collego anche a quello che diceva Andrea il modello verbale rispetto tra semiotici ce lo possiamo dire molto chiaramente rispetto a tutti gli altri linguaggi non verbali è una radicale eccezione perché la stragrande maggioranza degli altri linguaggi e degli altri sistemi di significazione mi è piaciuta molto l'idea che il linguaggio verbale sia specifico mentre in qualche modo i linguaggi fondati su rossi di ficis come li chiamavano ecco cioè in qualche modo sulla non arbitrarietà e quindi sulla sull'accoppiamento tra sistemi dell'espressione e sistemi di contenuto sia invece biospecifica perché tendenzialmente i sistemi fondati su rossi di ficis e quindi sull'accoppiamento tra espressione e contenuto noi li condividiamo con la quasi totalità delle altre specie in grado di produrre semiosi da un certo punto di vista quindi in qualche modo c'è se vogliamo una genealogia interna delle scienze cognitive che costruisce la centralità dell'idea di rappresentazione su un particolare modo semiotico che è quello del linguaggio verbale con tutte le caratteristiche specifiche in qualche modo del linguaggio verbale nel momento in cui questa cosa viene eletta a modello della cognizione produce tutta una serie di proprietà che non necessariamente deve avere era qui la se vuoi critica degli inattivisti a questo tipo di cose a cogliere qualche punto centrale ma allo stesso tempo se noi cominciamo a dire che invece la nozione di rappresentazione va in qualche modo rifiutata to cure facciamo l'errore speculare da un certo punto di vista e quindi questa non è un'attitudine sincretica è proprio un'attitudine euristica cioè il nostro punto è spiegare la cognizione per spiegare la cognizione abbiamo bisogno in qualche modo di non lasciarci inviluppare dal dibattito che molto spesso è accademico e serve a produrre paper per farci le mediane ecco dobbiamo andare a vedere questo è un punto fondamentale ecco esatto questo è un punto fondamentale la bandierina da piazzare con il proprio logo esatto esatto ma dobbiamo io sono a cinema quindi come al solito non mi serve mai a niente tutto questo lavoro da questo punto di vista esatto per te è completamente fuori settore ma noi siamo quattro qui siamo su quattro settori diversi in fondo questa è la vera interdisciplinarità e questo è da un certo punto di vista poi ritorniamo se volete su questi aspetti che sono sono anche molto centrali da un certo punto di vista su certi tipi di dibattito e questo è secondo me mi fa molto piacere appunto questo fatto quello diceva Fausto è il modo in cui la semiotica può dire qualcosa su un certo dibattito di filosofia della mente o di scienze cognitive nel senso interdisciplinare che piace a noi e non nel senso della psicologia o della territorializzazione disciplinare di una scienza della cognizione e la cosa che invece diceva Fausto mi fa molto piacere anche questa perché c'è poi anche l'altro aspetto cioè mi fa piacere che un neuroscienziato cognitivo come Fausto per quanto aperto per quanto molto anche competente in filosofia e in molte discipline vicine in qualche modo veda che un po' a me le scienze cognitive sono servite cioè non sono il parmigiano che mettiamo sulla pasta ecco cioè sono davvero qualcosa che mi serve a parlare parmigiano scusa ho sbagliato ho sbagliato esempio forse questo a Parma non lo volevo dire vedi un'altra roba la glassa che mettiamo sulla torta vedi un'altra cosa però proprio l'idea che mi sono servite per risolvere dei problemi interi alla mia disciplina quindi spero che ci siano entrambe queste cose da un lato il modo in cui la semiotica può spiegare alcune cose che sono successe dentro il dibattito per esempio di filosofia della mente e invece il modo in cui le scienze cognitive ci servono per spiegare una cosa che dentro la semiotica è veramente strana perché da un lato c'è chi fa semiotica e la pensa più vicino allo strutturalismo nel linguaggio o alle scienze sociali e la pensa come una disciplina della cultura una logica della cultura eccetera eccetera e poi c'è chi invece fa bio semiotica che non compra proprio non se l'è comprata questa idea di semiotica della cultura queste due robe non dialogo Andrea lo mostrava benissimo nella sua ricostruzione e quando Fausto diceva bisognerebbe fare studiare l'etologia questo vale proprio esattamente per questo perché se studiassimo l'etologia ci renderemo conto che la proposta che faceva secondo me Andrea che faceva anche Fausto è assolutamente centrale cioè di fatto noi abbiamo delle cose che sono specie specifiche ma che hanno un loro funzionamento particolare che i semiotici sanno descrivere perfettamente e poi abbiamo alcune cose che invece sono biospecifiche in qualche modo la continuità tra la mente e la vita tutta questa idea che la vita è minded come dicono alcuni colleghi e se è minded quindi anche semiotica perché l'essere minded implica un accoppiamento strutturale di tipo autopoietico tra l'organismo e l'ambiente ecco da un certo punto se mi posso inserire un attimo oltre a a questa riforma diciamo così del curriculum che suggeriva Fausto includendo lo studio dell'etologia io aggiungerei ma lo dico a ragion veduta dal momento che stiamo parlando di un libro che la usa a piene mani la psicologia dell'età evolutiva che è fondamentale e uno dei punti che ho apprezzato molto ce ne sono tanti ma lo voglio citare perché ancora non è uscito che in un libro di semiotica cognitiva si parla di autismo e si parla di autismo non certo partendo dalle contorsioni enzopatogenetiche che hanno avuto varie stagioni alla Baron Cohen tanto per fare un nome che partono dal mind reading per arrivare a un mind reading camuffato da empatia in citila dosor quindi tutto un filone di ricerca molto più legato all'embodiment e alla corporeità perché anche l'infant research cioè Trevarten Stern tutti questi autori negli anni 80 hanno messo dei punti fermi che secondo me molto pochi hanno letto non solo in semiotica ma anche in film e forse anche nelle neuroscienze anzi tolgo il forse Trevarten era un neuroscienziato ed è appunto forse non ha seminato come avrebbe potuto e dovuto da un certo punto di vista magari ha avuto più fortuna fuori non so per esempio per citare un amico comune Sean si è molto ispirato Gallagher si è molto ispirato al lavoro quindi sono assolutamente d'accordo con quello che diceva Vittorio e per me appunto un po' di Infant Research è stata una lettura centrale per appunto fare molte delle cose che faccio nel libro poi non so se le fate bene ma insomma certamente ho provato a sporcarmi le mani dentro quella cosa e se posso continuare da un certo punto di vista a riprendere i punti ecco su quello che c'è a fare appunto c'è enorme simpaticità con tutto quello che ha detto insomma e ce n'è altrettanta con quello che diceva Andrea che andava veramente molto nei dettagli e questa cosa quella cosa che la cosa che ho già detto un po' ma quello che lui parlava sui seri di maniproduzione e Andrea è stato veramente la persona che ha che ha il merito di aver rilanciato questi temi che per 30 anni in trattoria dentro la casa semiotica sono stati taciuti e tra l'altro semiotica in generale per fare un po' di storia giusto per gli amici semiotici era un libro che ha avuto un grande successo nella prima parte poi la seconda era questa cosa di teoria di modi di produzione scientifica che pensava fosse il grande capolavoro della sua teoria non se l'è guardato a nessuno e se ci pensate per ecco è una stranissima eccezione un uomo che le cui cose hanno avuto un appunto enorme ecco in tutto il mondo che occupava ben mezzo libro tra l'altro hai citato per trent'anni poi Andrea ha fatto uno studio anche in quegli anni e da lì veramente Andrea ha cambiato le cose io ho curato una special issue di una rivista di semiotica per i quarant'anni quindi dieci anni dopo i lavori di Andrea quindi nel 2015 e tutti i saggi di quale special issue erano sulla seconda parte e quindi in qualche modo questo tutta quella parte lì è centrale ed è centrale proprio per tutto questo discorso cognitivo che facevamo riconnesso all'etologia connesso a io ricordo la vecchia idea di Roland Barthes per cui la linguistica cioè la semiotica è una parte della linguistica la legge così dice ma è matto ovviamente la semiotica si occupa di tutti i linguaggi anche quelli non verbali invece Barthes coglieva un aspetto centrale cioè si rendeva conto che tendenzialmente tutti i concetti della semiotica in particolar modo quelli euristici che ci permettevano di leggere il rapporto con i linguaggi in qualche modo venivano tutti dalla linguistica quindi in qualche modo noi eravamo legati a un modello del linguaggio verbale che colonizzava anche i modelli dei linguaggi non verbali ed è secondo me la stessa cosa che è successa in scienze cognitive quando si doveva costruire una teoria della rappresentazione mentale come inner layer di cui la percezione era l'input e l'azione era l'output questa rappresentazione era language like cioè aveva il linguaggio come suo sistema modernizzante primario quindi in qualche modo le nostre due discipline hanno se vogliamo questo vecchio problema comune da un certo punto di vista questa centrale del linguaggio quindi in qualche modo se la semiotica come la fa Andrea ma come spero anche che farò io permette di sciogliere questa cosa e di capire che in qualche modo i linguaggi hanno una una loro varietà e c'è una continuità con l'etologia e con la comunicazione animale ma c'è anche una discontinuità che è legata appunto alla specie specificità di alcune forme umane di cui già facciamo un enorme passo avanti cito insomma su questo anche lavori di amici comuni da Nilli Penisi ma insomma tante altre persone che hanno che hanno lavorato hanno lavorato su questo la cosa su cui l'altra cosa su cui volevo dire volevo dire una cosa è da un lato l'idea di integrazione dice Andrea su cui sono totalmente d'accordo ho usato la parola anche nel sottotitolo del libro che ci tenevo molto in qualche modo ma non è un'integrazione lo voglio ridire non vuole essere sincretica non è un libro cerchio bottista tutt'altro un libro che ha una sua proposta teorica chiarissima è una proposta teorica chiarissima però è una proposta se vogliamo interdisciplinare o multidisciplinare quindi ovviamente vuole integrare al proprio interno le bibliografie quantomeno che vengono da domini da domini diversi l'altra cosa che diceva Andrea che mi piace molto da sempre è un po' il suo tema era questa idea della narrativizzazione uditiva e in qualche modo deludibile come modello anche qui molte delle nostre cose quando si fattoria personalmente non solo ma la visione molto spesso è la cosa di cui ci si occupa di più ma tendenzialmente ci sono studi di antropologia culturale che sostengono che il grande sviluppo tecnologico della società occidentale è legato a doppio filo all'elezione a modello primario della visione tra i nostri sensi perché la visione è il senso più oggettivante in qualche modo quindi ci sono stati molti studi in questo senso e quindi mi piaceva molto la tua proposta sul udibile è quasi da seminotico direi è quasi una prova di commutazione proviamo a commutare il visibile con l'udibile proviamo a vedere che cosa succede nel momento in cui andiamo a occuparci di cognizione di percezione di linguaggio eccetera eccetera il linguaggio è un aspetto legato all'udibile centrale la cognizione ce l'ha la percezione ce l'ha quindi ovviamente se ascoltassimo di più e guardassimo di meno forse potremmo potremmo pensare diversamente chissà lo metto come battuta ma è una pista che mi interessa bene grazie e vedo ci sono due domande prenotate una da Marco Meneghelli e l'altra da Andrea Velardi quindi darei prima la parola a Marco Meneghelli e vi prego di fare domande e di essere possibilmente sintetici grazie assolutamente cercherò di fare sintesi non analisi che tra l'altro bellissime interessantissime sintetizzare è molto importante in ambito scientifico come si sa sono sintesi la fotosintesi quello filiana anche no adesso scrivi la battuta grazie professor Gallese di cuore anche di aver ospitato e di aver fatto questa bellissima conferenza scusate se ogni tanto intervengo magari sembro in teichel scivolato ma con i miei commenti ma in realtà è per il bene della scienza diciamo il progresso scientifico allora io in realtà volevo solo siccome il professor Valle mi ha dato lo spunto facendo un riferimento a sintetica nazionale che secondo me è l'ultimo testo veramente serio filozoticamente come dire importante del professor Ferraris dopo ha fatto testi altrettanto importanti come ad esempio l'autologio di telefonino è un testo fondamentale che aveva anche recensito la bustina di Minerva mi ricordo benissimo ecco non è un semiotico Ferraris fa parte della traduzione ermeneutica riprende poi il discorso di Searle è molto influenzato a Derrida e come interessava questa cosa di Derrida perché siccome Claudio ha detto all'inizio che è un linguista che la sua principale competenza è quella di essere un linguista direi che è un semiotico un filosofo diciamo forse con una maggior competenza linguistico-semiotica nel senso che sono di più in quell'ambito si può essere filosofo come i miliani romagnoli i miliani filosofi e semiotici e semiotici e filosofi io mi sento più filosofo per formazione e tradizione scolastica diciamo fenomenologica a Milano ma non è che la semiotica non la conosca tutt'altro anche perché Umberto Eco io l'ho amato tantissimo venivo a Bologna a sentire le sue lezioni sull'attore di favola per esempio anni fa al Dams comunque quindi c'è ancora il primo di Cantano di Torinco in realtà la questione a me secondo me il tuo testo è interessantissimo e bellissimo perché va avanti sulla tradizione Bonfantini insomma semiotica pubblicata da Bonfantini la semiotica cognitiva insomma la semiotica di Perse la semiotica cognitiva diceva Bonfantini quindi questo è un cognitivismo semiotico quello di cui parli tu e sviluppi benissimo questa cosa la domanda su Derrida perché in realtà il tema della grammatologia questo testo che ho visto non è nel 68 o nel 67 pubblicato il 69 in Italia di H-Book dove il primo parlare di Perse in Europa probabilmente va Roland Barthes in elementi di semiotica questo libro minimo dove parla di Perse che mi pare che sia nel 68 in quegli anni lì sono anni molto densi Derrida però 67 già parla di Perse filosoficamente nella grammatologia della grammatologia in maniera che ha appunto influenzato moltissimo Ferraris voglio dire anche Ferraris della documentalità sicuramente dell'atto iscritto via Searle Ferraris con Derrida era amico ma ha avuto essere molto influenzato ma filosoficamente voglio dire non sto dicendo le influenze filosofiche sono molto importanti è una legge della mente anche questa è un'influenza positiva diciamo non solo non c'è mica solo il Covid a influenzare ci sono forme virali tra virgolette insomma poi il virus si diffonde come il virus ma anche come altre le idee si diffondono diceva Perse in maniera non virale ma con delle valenze con dei legami chimici questo è poi un tema di ricerca su cui sto da tempo in realtà da vent'anni ho avuto la tesi laurea interessando ho ripreso ultimamente per questo mi sono interessato molto all'attivismo all'acognitivismo all'approccio anche appunto delle discipline psicopatologiche al problema alla mente e alle neuroscienze in modo particolare perché Perse ha detto moltissimo in realtà Derrida quando dice cita Perse della grammatologia sul problema del fenocentrismo eccetera un testo geniale molto coraggiosissimo che Derrida anche in differenza di ripetizioni tra l'altro da Vattimo ad esempio su Freud diceva le cose bellissime e fondamentalmente il decostrutturismo nasce in un confronto con la psicologica di Freudiana ma la grammatologia cita questa frase che a me è rimasta impresso come una cosa che non scorderò mai cita una frase di Perse presa un po' così a casaccio che è la sintesi appunto e poi così concludo dell'evoluzionismo persiano symbols grows questo sintagma symbols grow i simboli segni poi sappiamo che in Perse c'è le triadi le icone i simboli parole traduttivi tutta una questione interpretativa symbols grow poi il confronto con Derrida sul problema Andréfus la semia delimitata tutto quel dibattito che anche in Cantero e Torinco mi parla nell'appendice voglio dire mi pare che in realtà quel problema aperto nel 77 della Derrida in riferimento a Perse non si sia ancora chiuso siamo ancora lì anzi sia attualissimo il testo della grammatologia anche la posizione linguistico filosofico e semiotico proprio sul tema evolutivo la domanda appunto era questa io ho dato un'occhiata al tuo libro bellissimo molto ben strutturato sull'abito lo hai spiegato benissimo nell'introduzione con quello che hai scritto e apri temi di ricerca clamorosamente interessanti di Derrida mi parli in quel testo tu sicuramente lo conosci evidentemente essendo allievo di Umberto Eco diretto diciamo filiazione diretta di Umberto Eco e molto ben diretta diciamo rispetto a Derrida e alla linguistica e alla grammatologia il rapporto con Perth e Ferrari se vediamo un problema che ha dato l'Andrea Valle ma anche l'entrimento di Caruana interessante grazie quella è la domanda su Derrida sentiamo la reputazione il cartesianismo e l'anticartesianismo di Derrida in che misura la Derrida è l'anticartesiano grazie 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 allora ovviamente io sono un semiologo lavoro in un dipartimento di filosofia quindi certamente è così reputo che componente costitutiva della formazione di un semiologo sia linguistica cioè sia rapporto con le scienze linguistiche in generale con le scienze del linguaggio quindi da questo punto di vista adesso che noi reintrodurremo finalmente a Bologna un corso di semiotica altri anni di filosofia la formazione in scienza del linguaggio sarà fondamentale anche per degli studi di filosofia che faranno semiotica quindi questo intendevo quando parlavo del rapporto con la linguistica e su Derrida beh ovviamente è un autore centrale è un autore per cui negli anni 90 tutti noi ci siamo formati chi ha studiato in quegli anni era insomma era una era una tappa d'obbligo il primo Derrida è assolutamente straordinario libri come appunto la grammatologia che citavi è un libro assolutamente straordinario ma anche la voce e il fenomeno ce ne sono diversi bellissimi insomma certo c'è un aspetto dove l'aspetto di Derrida a Eco non piaceva Derrida ovviamente cercava di in qualche modo differenziarsi dal pensiero derridiano con cui spesso invece il suo era identificato o se non proprio identificato quanto meno quanto meno avvicinato allo stesso tempo io credo che Eco lo stimasse molto insomma amasse molto alcune sue cose sentiva sentiva una una certa vicinanza eccetera però rimaneva da un certo punto di vista legato molto più a Peirce quindi da un certo punto di vista quello che c'è che differenzia per insomma per la domanda che mi è stata fatta Derrida da Peirce è proprio il pragmatismo Symbols grow ma in Peirce i simboli hanno in qualche modo un loro arresto in quello che Peirce chiamava l'interpretante logico finale e che ovviamente non è altro che l'abito in qualche modo quindi da un certo punto di vista in Peirce c'è fortissima questa componente per cui il significato è legato all'azione cioè ha una forma dell'azione quindi anche l'aspetto simbolico che ovviamente non è l'unico aspetto semiotico che interessa Peirce anzi semmai è uno molto piccolo perché lui rimango convinto che dove poteva il suo cuore era l'iconismo ma appunto anche nell'aspetto più arbitrario più se vogliamo legato alla convenzionalità della semiosi anche lì c'era un aspetto legato all'azione e alla pragmatismo di cui in un caso perso è stato un inventore e quindi questo non ci deve stupire insomma da questo punto di vista bene darei la parola a Andrea Velati grazie la spiegata risposta scusate grazie Claudio grazie 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 di cuore grazie prego Andrea allora innanzitutto grazie ciao eccoci Andrea soprattutto perché è un modo diciamo è interessante che è un modo per riattualizzare tanto Umberto Eco in un modo molto innovativo e anche con strade che non sono per forza quelle che che il maestro aveva percorso voglio dire anche nello stato attuale delle ricerche di quegli anni forse si fa un grande servizio ai maestri facendo così volevo anche dire quindi lo stimolo straordinario di vedere riattualizzato un libro a cui sono molto legato Cantano Torinco perché appunto in quegli anni mi occupavo di teoria della categorizzazione devo dire sia il libro di Eco ma anche quello di Patrizia che citavi significato d'esperienza hanno preso a piene mani dalla teoria dei prototipi della teoria delle categorie c'è quindi un discorso che ha già fatto Fausto legato al problema rappresentazionalismo antirappresentazionalismo perché la tua attualizzazione è molto interessante rispetto a cose che forse appunto nella semiottica di quegli anni non erano chiare cioè appunto il grande ruolo degli abiti come dicevi tu e questo ruolo dell'iconismo che hai citato adesso ecco proprio in passaggi di Cantelloni Torinco dice la grande disputa tra iconofobi iconofobi e iconofili decide se in quegli anni per o contro le immagini mentali c'erano dibatti di questo tipo che la scienza cognitiva classica un po' si era perduta in queste cose e non pensando quanto simbolo potesse voler dire anche icona tranquillamente in qualche modo non per forza creando una scensura netta ti volevo dire se però ritornando cioè legando quello che hai fatto tu c'è l'opera di integrazione che hai fatto tu riprendendo ecco devo dire genuinamente anche leggo della teoria dei modi di produzione segnica perché tutto quello che dice in quel grande capitolo che molta semiotica socio-semiotica gremesiana ha dimenticato lo abbiamo detto secondo me facendo male aveva a che fare però appunto anche con l'azione con gli abiti icona indice simbolo eccetera riattualizzando come hai fatto tu però tutta quella tematica che ha a che fare col tipo cognitivo col contenuto nucleare cioè con quello che poi categorialmente organizza in qualche modo il modo con cui riconosciamo il cavallo per gli aztechi l'ornitorinco che è il tema centrale di quel libro tutto questo può essere comunque ricompreso in una teoria più ampia come la tua che comunque non toglie anche il fatto che in qualche modo pur nell'abito pur nell'interpretante logico finale nella catena degli interpretanti che ecco poi a un certo punto diceva non per forza deve essere un interpretante di tipo appunto categoriale gli interpretanti sono di vario tipo quindi poi permettono negoziazioni anche sul riconoscimento e anche sul contenuto nucleare da questo punto di vista ci può rientrare anche qualcosa però che è in qualche modo rappresentazionale a seconda anche dei contesti e del modo in cui la nostra esperienza rispetto agli oggetti in qualche modo e ai segni si viene a creare quindi in qualche modo dico probabilmente una certa tradizione ha assolutizzato troppo il ruolo delle rappresentazioni nella tua in qualche modo anche da quello che veniva fuori dal vostro dibattito la rappresentazione però ci può rientrare non solo sullo sfondo perché può essere uno degli interpretanti in qualche modo che possono contribuire a creare a tenere ferma la relazione tra oggetto immediato e oggetto dinamico ma anche in questo caso tra quello che è un contenuto nel quale poi si può convergere ecco diceva negoziazione nel tuo gergo secondo me molto meglio si potrebbe dire appunto anche abito qualcosa che ha a che fare anche con processi che non per forza sono volontari di tipo sociale volontario però in questo caso c'è qualcosa che può rientrare quindi in qualche modo è una lettura ecco in questo caso davvero integrativa che può permettere anche un dialogo dalla tua prospettiva e chiudo di un attivismo radicale di sicuro non potrai convergere con chi come me cerca di difendere un qualche ruolo più specifico delle rappresentazioni però nella tua lettura più diciamo integrativa in qualche modo un ruolo più debole però ce l'hanno di sicuro mi pare di aver capito questo assolutamente sì io come Fausto cogliera benissimo sono molto laico sull'idea di rappresentazione per me una una posizione come quella di Vittorio per cui le rappresentazioni sono qualcosa connesse alla corporità e questo permette di spiegare il nostro lavoro in assenza tutte queste cose qua per me è perfettamente accettabile non ho nulla contro e quindi ripeto secondo me è stata più una polarizzazione accademica molto più che non un reale problema io a questo punto di vista davvero non ho nessun problema con l'idea di rappresentazione e quando parlo di antivismo radicale e parlo di antirrappresentazionalismo non ce l'ha con un'idea di rappresentazione tucur né tanto meno di rappresentazione come la pensa Vittorio ciò con una certa idea di contenuto che viene dalla filosofia del linguaggio che è quello il vero punto cioè la filosofia analitica dal suo punto di vista per cui se il significato sono le condizioni di verità in qualche modo allora noi siamo leghiamo il significato a come è fatto il mondo questo è il mio obiettivo quando io mi definisco un attivista radicale perché io non penso che il significato sia un contenuto connesso alle condizioni di verità ma penso che il significato sia legato a procedure di sense making e quindi in qualche modo ha una forma di azione e costruzione di senso costruzione di nicchie di accoppiamento strutturale con l'ambiente quindi io sono un attivista radicale per questo cioè perché rifiuto questa idea di contenuto legato a condizioni di verità che spiegano il significato ma non in qualche modo perché penso che una teoria della cognizione deve essere radicalmente antirrappresentazionalista e le rappresentazioni siano il male non ho minimamente questa posizione se quando poi Andrea guardi il libro questo lo vedrai assolutamente e credo sia abbastanza chiaro e la cosa che dicevi tu quello mi interessa perché mi permette di invece tipo cognitivo contenuto nucleare eccetera eccetera quello io credo parlavo prima anche con Andrea lo dicevamo Canterbury Torrico il libro centrale ma anche dei passi indietro rispetto a alcune idee di Eco quelli sono i passi indietro secondo me qual è il passo indietro è l'idea di eleggere il riconoscimento a modello per una teoria della percezione la teoria della percezione non si può fondare sull'idea di riconoscimento a Eco piace l'idea di riconoscimento e quindi si occupa tendenzialmente solo di riconoscimento in Canterbury Torrico perché ovviamente la parte del riconoscimento è la parte in cui la percezione è accoppiata al concetto e quindi alla categorizzazione eccetera siccome a lui interessava lo schematismo kantiano che è proprio il coadattamento del concetto con l'aspetto sensibile percettivo eccetera eccetera allora lui si concentra innanzitutto sul riconoscimento e quindi tipo cognitivo contenuto nucleare contenuto molare tutte le cose che dicevi tu io trovo che però il riconoscimento sia un aspetto molto ristretto della percezione o un'idea ecologica della percezione o un'idea relativista della percezione la percezione è connessa all'azione da un certo punto di vista è centrale tutto il lavoro di Vittorio l'ha mostrato secondo me è benissimo anche il lavoro di Sean eccetera eccetera è tutta la cosa sensori motori della percezione anche legata al nostro sistema cervello corpo è connesso in qualche modo a tutte le cose che sappiamo ormai secondo me su questo non possiamo tornare indietro quindi eleggere il riconoscimento a modello della percezione secondo me è un passo indietro e quindi in qualche modo che cosa mi interessa di tutta quella cosa che cosa rimane di tutta quella parte sui tipi cognitivi il contenuto nucleare eccetera rimane secondo me quello che diventa centrale se tu esci dall'idea di riconoscimento è il concetto di prior il concetto di prior proprio del predictive processing i prior che ci permettono usando la conoscenza stoccata di generare il flusso il flusso percettivo quella è un'idea che mi interessa di tutta quella cosa perché perché il nostro cervello è attivo non aspetta il mondo cerca di predire quello che troverà perché in qualche modo abbiamo avuto un vantaggio evolutivo nel fare così questo vittorio è l'esperto ecco era solo per aggiungere come l'idea di prior mi piace mi piace ancora di più se la leghiamo al concetto di constraint e poniamo il constraint nel corpo cioè nella natura corporea perché un rischio che io vedo nel predictive coding minimum energy principle diciamo nella teoria del tutto che ha proposto in varie evoluzioni e diciamo applicandola ai campi più disparati Carl Frisbon e quelli che si sono inseriti nella sua scia la mia paura è quella di un ritorno a un computazionalismo che in qualche modo di necessità deve fare i conti con il corpo ma che poi di fatto se lo dimentica mentre invece ad esempio Michael Anderson un autore che abbiamo ospitato recentemente nell'ultimo webinar prima del tuo fa sistematicamente uso del concetto di constraint e per me il primo constraint è il corpo cioè io posso camminare posso sedermi posso alzarmi posso saltare ma non posso volare ad esempio con la mia natura corporea e questo secondo me si lega benissimo al tentativo che tu fai di in qualche modo salvare la narrative practice o meglio la narratività come la narrativity come la chiami forse più opportunamente tu con un retroterra che non è assolutamente linguistico ma che è pragmatico che è abituale Michele Cometa sicuramente a questo punto citerebbe l'Heroa Gouran e la scena per attuar cioè di fatto la costituzione del simbolico e la capacità di costruire una narratività a monte dell'avere a disposizione le parole che servono a narrarla e quindi io una cosa ad esempio che non ho mai capito al di là del branding come dicevi tu accademico è come si possa conciliare da un lato una narrative practice hypothesis con dall'altro lato una stance che è antirappresentazionalista a 360 gradi perché poi ha dei picchi e delle valli l'ultima volta ci siamo visti a Bologna era più nella valle che nel picco era meno radicale ma in certi momenti gli ho sentito dire forse addirittura a Parma il convegno organizzato da Fausto con Italo Testa che si può anche fare meno della nozione di contenuto mentre invece lì in filosofia della mente un autore che mi pare tu non citi nel libro ma che secondo me qualche contributo molto interessante l'ha dato è Joseber Mudez quando parla di non conception of content che è per certi versi assimilabile alle rappresentazioni della millica della millica ed è sicuramente in linea con molti dati delle neuroscienze ma mi taccio una cosa che mi viene da dire che però essendo che anche nel linguaggio e nella semiosi abbiamo le risonanze continue dello scenario dell'azione e potremmo anche dire però che pure nel linguaggio abbiamo presenti questi vincoli in nome di questa relazione e questa cosa è molto legata alla vera interpretazione di Peirce che dà eco e che ridà Claudio in questo scenario integrato nuovo e cioè che la semiosi è illimitata ma non è anarchica è piena di vincoli ed eco in incanto e lo ritorico lo dice sempre gli interpretanti servono a restringere a delimitare a non far dire capito ai segni alle parole cose che non hanno relazione col mondo perché poi rispecchiano quella relazione che in Peirce c'è tra oggetto dinamico e oggetto immediato cioè l'oggetto della realtà che è quello che fissa in qualche modo poi il legame con il rappresentamento secondo me questa idea è anche presente nel libro di Claudio poi questo almeno da quello che avete detto poi questo lo appellerò molto meglio però questo ci dà l'opportunità anche di non fare di non creare più la frattura tra tutto lo scenario motorio dell'azione della percezione del motorio e dell'azione con il linguaggio e quindi potete dire che anche nel linguaggio sono presenti quei vincoli non so se è una prospettiva che ti convince che vi convince allora io dico faccio un commento su quello che c'era Vittorio e infatti secondo me l'idea di Pryors da un certo punto di vista va connessa fortemente non solo con l'idea di vincolo ma anche con l'idea di abito che da un certo punto di vista è un vincolo e questa era la strada che io che io provavo a fare provavo a prendere insomma anche come risposta al famoso bootstrap problem il famoso se per percepire servono Pryors dove ci vengono i Pryors e tendenzialmente ci vengono degli abiti ci vengono e che sono una categoria che in qualche modo prende la linea di fuga da molte opposizioni sono sia corpori ma sono anche di altro tipo quindi insomma credo che quella sia una strada di ricerca promettente che va battuta l'altra cosa che proprio commento quello che diceva Vittorio è proprio rispetto a Dan io non ho mai capito questa cosa da un lato sei radicalmente antirrappresentazionalista per quello che riguarda quelle che chiamano le basic minds ma lo diceva anche Fausto Primo poi hai un'idea della narratività come un artefatto rappresentazionale questa cosa per me è incredibile nel senso che cioè hai fatto tutta una teoria che vuole essere rappresentazionalista poi è un'idea di narratività che da seminatico è stranissima dal mio punto di vista che è totalmente rappresentazionale è totalmente legata al linguaggio è totalmente legata a un genere letterario specifico non è soltanto il linguaggio è un genere infatti lì metti i piedi nel piatto nel libro questo lo dici chiarissimamente una delle tante cose che ho molto apprezzato del tuo lì sì è una cosa che per me è stranissima quindi semmai io sarei un po' più rappresentazionalista sulle basic minds appunto legato al corpo agli abiti ai prai e sarei un po' meno rappresentazionalista per quello che riguarda la narratività che non mi sembra essere un artefatto rappresentazionale di nessun tipo è la narrazione cioè è in qualche modo qualcosa che è legato veramente a un genere letterario bene vedo accendersi Andrea a cui diamo volentieri la parola ma allora io sono molto d'accordo sul distinguere la narratività da narrazione come si fa si dovrebbe fare in semiotica e come una sorta di precondizione mi pare che questa idea della narratività sia uno dei tre elementi del tuo diciamo così antilogicismo uno è questo ragionamento sulle opposizioni partecipative come forma del prelogico rispetto al logico l'altro è un'idea antirappresentazionale il terzo è un'idea appunto di una logica come dire di costituzione che è quella della narratività la narratività la descrive a un certo punto come una gestalt questa è un'idea interessante perché gestalt come dire è un principio di organizzazione in qualche misura molto astratto ma in qualche modo hardwired allora visto che parlavamo prima di idea di linguaggio come specie specifico che sembrerebbe insomma quello che so io essere un fatto per ora abbastanza abbastanza accurato e in secondo luogo siccome in qualche modo il quadro in cui inserisci in questo ragionamento che io condivido è un quadro di tipo evolutivo fondamentalmente cioè un'idea di mente distribuita di mente estesa ma anche distribuita in forme diverse io citavo prima il polpo che è interessante no è pare che i polpi abbiano una forte capacità di individuazione per cui spruzzano l'inchiostro a quell'addetto dell'acquario ma non agli altri perché quello gli sta antipatico in qualche modo stare antipatico è una nostra lettura però come dire c'è una prestazione cognitiva di individuazione veramente interessante allora mi domandavo ma cioè questa idea della narratività come gestalt come dire è specie specifico o boh cioè questo è un punto interessante secondo me perché lo diamo per buono che il linguaggio sia specie specifico l'abbiamo indagato però come dire la narratività è qualcosa che caratterizza l'umano oppure come dire boh va a sapere ha altre forme è un tema su cui non penso si possa dare una risposta però mi sembra un tema potenzialmente interessante la seconda cosa che volevo chiederti nemo parla è un pesciolino che parla a volte i pesci nei cartoni animati parlano pure ma sono cartoni animati appunto però quello del mio acquario non parlava però avevamo un'interazione ma la questione è la forma narrativa l'interazione c'è di sicuro anche con i pesci però la forma narrativa è un'altra cosa la seconda cosa che volevo chiederti è questo rispetto all'idea dello schematismo cioè il tuo esempio è quello persiano della formula e del grafico e in qualche misura di questa capacità come dire predittiva nel senso che l'idea è che nella mappa io posso manipolare la mappa e questa mappa è come dire prognostica rispetto a un sistema di effetti potenziali però mi domandavo e quindi l'idea è che lo schematismo non sia propriamente un'immagine ma sia un sistema di relazioni mi domandavo a proposito di metafore tecnologiche visto che però come dire fanno parte della mente stesa secondo questi secondo come dire questi assunti che stiamo discutendo se è un modello potenzialmente potesse essere quella della differenza che c'è tra l'immagine raster e l'immagine vettoriale cioè se tu hai un'immagine raster hai una mappa di pixel la risoluzione è quella non puoi farci niente se tu hai un'immagine raster che ne so postscript oppure quelle incluse dentro i pdf in realtà hai una specifica dei punti che rappresentano un'immagine e questi punti sono in effetti dilatabili sono modificabili si possono modificare i percorsi cioè c'è una sorta di definizione operazionale dell'immagine stessa ecco c'avevo questa queste due curiosità Andrea la verità a tutte e due le domande la mia risposta è non lo so la prima cosa è super interessante però ecco però davvero non lo so nel senso che davvero se anche è un top della semiotica cioè apre un problema è un problema si 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 apre un problema l'idea della semiotica fortissima è che c'è la Bart c'è la Grimace ce l'hanno tutti i grandi semiotici che in qualche modo l'organizzazione della narrativa è il modo propriamente umano di dare senso all'esperienza cioè noi dobbiamo fare come se in qualche modo il mondo è un'organizzazione coerente che si sviluppa secondo alcune logiche di tipo narrativo ecco quindi insomma con 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 che la semiotica ha molto che ha molto studiato se è vero non lo so se però è una una strada molto 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 interessante se e poi addirittura è specie specifico se invece c'è qualcosa di qualcosa del genere anche fuori davvero non lo so era una cosa che mi interessava molto quando per esempio lavoravo sugli esperimenti sulla cognizione sociale per esempio no sugli esperimenti mind reading fatti sugli scipanze in qualche modo su 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 esperimenti di falsa credenza eccetera anche lì non si capiva bene se ci fosse questa tipo di organizzazione diremmo narrativa dell'esperienza che è quello che si aveva nell'interazione però ecco è davvero un tema che cede moltissimo le mie le mie competenze da un punto di vista neuroscientifico noi avevamo tanti anni fa un seminario a Parma allora eravamo istituto di fisiologia quindi c'erano ancora gli istituti questo vi dice quanti anni fa fu invitato Fioriti Fioriti aveva pubblicato un paper molto noto su science su limitazione nel polipo e quando ci fece vedere diciamo così la cartografia del sistema nervoso del polipo rimaniamo tutti basiti perché pur avendo una certa frequentazione con il cervello dei mammiferi quello che ci faceva vedere a lui poteva benissimo appartenere a una delle creature aliene che popolano i bar interstellari di guerre stellari di Spielberg cioè una roba maedista ma al di là del polipo canta il polipo allora un oritorinco anche il polipo ci sono poi tutti gli esempi ad esempio se vogliamo parlare di social cognition del deceptive behavior nei cordidi che voglio dire il deceptive behavior è sempre stato considerato un po' l'assid test e c'erano molti che ideologicamente di nuovo o per branding accademico dicevano l'uomo ce l'ha lo scimpanzee non ce l'ha il rubicone mentale e poi c'erano i cordidi il laboratorio di Cambridge che stanno chiudendo anche grazie alla Brexit lì hanno lavorato per anni su queste tematiche quindi sicuramente è possibile l'incubo sullo sfondo è che questo diciamo così antropocentrismo possa oscurarci non la possibilità di concepire perché tu l'hai appena fatto ma diciamo anche la volontà di andare a indagare possibili forme di narratività anche in non solo in specie non umane ma addirittura forse non mammiferi però ti dice ah Claudio oggi nessuno può rispondere alla tua domanda perché mi sembra interessante perché la narratività è fondamentalmente legata al valore cioè è un percorso del valore e se il valore è legato a un'idea di direzionalità cioè in qualche misura in forme diverse come dire un'idea di orientamento quest'idea di orientamento del vivente che mi hanno detto però mi sembra un tema interessante di ragionamento bene non so se Fausto ha qualcosa da aggiungere no no ci sono sto seguendo e sono molto d'accordo sulla questione insisto sulla questione dell'etologia perché io mi mi ricordo anche leggendo per esempio gente naturalista insomma tipo John Dewey che a un certo punto dice man the tool maker no l'uomo e poi in realtà dice si cavolo ma non avevano fatto neanche uno studio che uno per vedere se gli animali utilizzavano gli strumenti quindi ci sono una serie di assunzioni con Claudio abbiamo scritto molto sull'ambito del ridere della risata anche lì l'uomo è l'unico animale che ride sono tutte cose che sono state fatte date per scontato semplicemente perché nessuno si era preso la briga di guardarci ma venivano andati come assieme di partenza quindi io sono d'accordo con quello che c'è a Vittorio sull'includere oltre all'etologia anche la psicologia dello sviluppo e credo che sia veramente materia cioè bisogna prima di dire questa è una cosa che dipende unicamente dal linguaggio vedere se veramente qualcun altro ce lo fa ma lì bisogna rimboccarsi le maniche e andare a vedere sul campo chi effettivamente fa questi studi cosa che non a proposito di linguaggio da Catania vedo la collega amica Grazia Pulvirenti germanista studiosa di letteratura di teatro e dei rapporti e dei rapporti embodiment non parlerò di narratività ma di narrazione in senso proprio ecco tu prima scrivevi il concetto di narratività è molto particolare siamo tutti curiosi di sentire la tua a questo punto sì Vittorio grazie grazie sempre per queste bellissime iniziative e grazie ai relatori di oggi come umanista io da dieci anni ho subito un tracollo mentale avendo a che fare con i neuroscienziati che mi hanno insegnato in primo luogo la precisione e l'esattezza terminologica in tal senso concetti come narratività c'ho qui un cane che attenzione concetti come narratività narrazione e addirittura in inglese narrativity narrative narration non possono secondo me essere usati in maniera così generica allora se utilizziamo il concetto di narrativo come aggettivo di narrazione sappiamo e credo sia un fatto indubitabile che il pensiero umano è narrativo e questo pensiero umano che lavora per microstorie attraverso una costruzione di microstorie poi può venire oggettivato in un'opera di narrazione ok quindi non lo definirei una gestalt è un processo dinamico il processo dinamico di produzione di pensiero e non ha a che fare col giudizio perché io posso produrre un pensiero che non ho valutato da un punto di vista di giudizio non un criminale che concepisce e quindi organizza una microstoria tramite una projection nel futuro di un atto criminale non sta effettivamente adoperando un istituto come quello del giudizio se intendiamo come giudizio quello etico quindi suggerirei in genere una maggiore attenzione con questi concetti perché appunto poi scadiamo se non nell'utilizzare wild gestalt che per noi umanisti non vuol dire assolutamente nulla cioè la narratività e la narrazione sono delle cose appunto specifiche e come tali vanno trattate perché se noi giungiamo a usare in maniera indiscriminata questa parola narrative ormai è tutto narrative storytelling si è fatto un abuso veramente imbarazzante di questi termini e quindi pregherei tutti ad essere molto attenti con essi grazie 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 una replica a Claudio e più vuole prego ancora di più di essere molto attenti e di non confondere le mele con le pere perché quando io parlo di narratività come gestalt non ho non mi riferisco in nessun modo a nessuna delle cose che sono state citate quindi lo storytelling le microstorie anche il pensiero narrativo alla Bruner eccetera eccetera ma mi riferisco a una teoria particolarissima che esiste nella tradizione semiotica che è la teoria della narratività di Greymas che in qualche modo pensa che la narratività sia una proprietà che cede che la si ritrova in tutte in qualche modo le forme testuali e non è legata a nessuna cosa che noi chiamiamo storia ma la si ritrova per esempio nella preparazione della zuppa al pesto secondo Greymas quindi non nella storia nella ricetta nel quando lei la fa la zuppa al pesto che ha un'organizzazione narrativa per esempio un esame universitario perché perché la narratività non ha nulla a che vedere con le storie con lo storytelling con le microstorie con il pensiero ma è una organizzazione profonda del senso è una forma del significato che serve a strutturare l'esperienza lei può non essere d'accordo con la teoria gremasiana ma non può dire che noi confondiamo e usiamo terminologicamente le cose in senso lato perché se guarda il libro vedrà che questa cosa è detta con enorme rigore solo ed esclusivamente a una cosa particolarissima mi permetto di dire che questo senso è un senso specifico questo adoperato di gremas che non è il vangelo mentre il concetto di narratività è un concetto molto più ampio declinato da molte altre persone in altri termini ecco grazie ma è colpa mia che ho introdotto il termine però perché io e Claudio siamo due semiologi e quindi quando parliamo narratività per noi è gremas perché c'eravamo anche prima se c'erano dubbi sulla centralità del linguaggio direi che l'ultima fase della discussione è costa miracolamente scusami una precisazione c'è una cosa fondamentale la professoressa Polvirenti ha parlato della narratività come proprietà gestalt che è una cosa che io dico nel libro e la riferisco solo ed esclusivamente a questa cosa poi non sarà il vangelo ok ma la riferisco a questa cosa qui non ha nulla a che vedere con tutto il resto che città quindi è in questo senso che è una proprietà gestalt poi il resto non ha nulla a che vedere le storie le micro storie le storie interni siamo tutti perfettamente d'accordo che i sociologi ci hanno scippato dei concetti e ce li hanno resi inaccettabilmente inapplicabili visto che appunto non si capisce bene che cosa sono nonostante siamo a metà giugno ma sembra che siamo a metà agosto la temperatura qui nella mia stanza sta aumentando in maniera preoccupante questo non ci ha impedito di avere una discussione molto vivace dal mio punto di vista ma penso che sia così anche per chi ci ha ascoltato e chi ci ascolterà in differita estremamente stimolante e interessante io desidero ancora una volta ringraziare Claudio per avere aderito a questo invito per avere scritto un libro molto importante che secondo me di cui c'era bisogno perché seguendo il percorso tracciato nel libro da Claudio si capisce come con molto impegno molto studio e molto acume e molta profondità è possibile trovare un filo rosso che mette in dialogo con fruttifero approcci che fino a non molto tempo fa non solo non si integravano ma si sparavano a palle incatenate quindi grazie ancora una volta Claudio e molte grazie a Fausto Caruana e Andrea Valle per il loro fondamentale contributo nel rendere questo penso un pomeriggio estremamente vivace saluto tutti e do appuntamento non so ancora quando ma sicuramente quando farà meno caldo arrivederci grazie di cuore a tutti grazie a tutti grazie 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 grazie